Libri nel Borgo Antico 2024 in compagnia di Francesco Carofiglio e la presentazione della Stagione Bella, edito Garzanti. Allora, qual è la Stagione Bella? La Stagione Bella mi piace pensare che chi legge riuscirà a scoprirlo, però diciamo è qualcosa che ha a che fare con questo rapporto complesso tra una madre e una figlia e quindi riguarda sia il passato di una madre che il presente e forse il futuro di Viola che è la protagonista, cioè la figlia. Ecco, un rapporto tra due donne, un rapporto indissolubile che supera anche la morte ma che di fatto si riscopre anche se vogliamo dopo la morte. Sì, è proprio così, diciamo che il passaggio traumatico della morte della madre consentirà a Viola pur nel dolore, nella sofferenza di rimettere a posto i pezzi della sua stessa esistenza e forse di trovarne una nuova. C'è una morale, se si può trovare una morale in questa storia? Beh, questo mi piace pensare che chi legge possa deciderlo. Io non scrivo mai volendo mandare un messaggio. Mi piace pensare che i libri siano dei contenitori liberi che vengono riempiti dall'esperienza del lettore. Allora, ci piace pensare che i nostri telespettatori, futuri lettori della Stagione Bella, possano trovare la propria morale, la propria storia all'interno delle pagine di questo libro. Grazie. Grazie, lo spero anch'io. Grazie.